La dirigente scolastica della scuola primaria Aldo Moro di Vallo della Lucania è risultata positiva al covid. La preside è viva a Napoli e dopo essere entrata in contatto con persone infette si è sottoposta a tampone ed ha scoperto di aver contratto il virus. La dirigente infatti è asintomatica, non presenta alcun sintomo ed è in isolamento presso la sua abitazione. Nel primo pomeriggio di mercoledì il comune ha immediatamente provveduto a far sanificare gli uffici amministrativi e tutti gli ambienti connessi e collegati comprese le vie d'accesso e i servizi. Tutti i contatti del caso accertato sono già in isolamento in attesa di essere sottoposti a test molecolare. Fino a nuove disposizioni le funzioni amministrative di coordinamento delle attività didattiche si svolgeranno in smart working. In questo modo presso la scuola primaria Aldo Moro non vi sarà alcuna interruzione dei servizi ma nemmeno della didattica in presenza. La scuola infatti è rimasta aperta perché la dirigente non ha avuto alcun contatto con gli alunni.